salve care buongiorno buongiorno benvenute ben trovate siete nel mio canale sono zahira e sui tarocchi eccoci qua con il nostro consueto appuntamento il messaggio del giorno per voi allora come vedete ho preparato questi meravigliosi tarocchi oggi proprio tarocchi bellissimi abbiamo proprio quelli più diciamo potenti e poi vi dirò la tipologia delle carte oltre che ovviamente la carta in uscita qua già si è palesata la prima carta benissimo ci fa piacere quando escono da sole allora ragazze come state spero bene ma spero che questi miei interattivi vi fanno compagnia mi intrattengono piacevolmente il lo scopo è principalmente questo lo dico sempre questi interattivi collettivi generali sono scopo di intrattenimento ovviamente fermo restante che coincidenze non esistono se siete qui in questo momento qualcosa probabilmente dovrete capire percepire sapere insomma una carezza potrebbe esserci per voi ma non è per tutti e quindi siete così tanti quindi insomma abbiate elasticità nell'apprendere le notizie se non si parlerà oggi se parlerà domani dopo domani io lo faccio tutti i giorni da oltre tre anni quindi un appuntamento costante non lo interrompo mai nemmeno nei giorni festivi chi mi segue dall'inizio lo sa e quindi è un bell'impegno che mi fa piacere che lo faccio veramente molto volentieri pur essendo un appuntamento quotidiano è abbastanza seguito perché comunque non è facile fare tutti i giorni una tipologia di interattivo e avere comunque tutti i giorni seguito quindi io vi ringrazio veramente di cuore il risultato è ottimo grazie grazie veramente infinite e io vado avanti ovviamente con il vostro aiuto infatti vi chiedo di sostenere il canale con un like con un'iscrizione se non l'avete ancora fatta me ne sarei grata ovviamente riguardo poi all'esito sapete io vi leggo tutti nei commenti scusatemi un attimo ragazze allora eccomi qua dicevo sapete che comunque io vi leggo tutti nei commenti quindi insomma se ci sono dei riscontri fatemi sapere interagiamo mi fa piacere conoscere così le vostre storie darvi qualche ulteriore consiglio eccetera però sempre con estrema leggerezza poi se volete approfondire se avete dei riscontri importanti e volete approfondire per appunto capire se realmente si parla di voi se la situazione è la vostra dall'inizio alla fine e volete fare un consulto personale che è l'unico che vi possa dare una certezza nelle risposte se volete farlo con me trovate tutto nella descrizione del video per potermi tutte le insomma gli step necessari per potermi contattare o che altro vi volevo dire sì vi volevo dire lo dico anche per quelle persone che mi scrivono che insomma io parlo per i maschetti che ovviamente fanno fatica a identificarsi quando io dico la lei la lei la lei avete ragione io vi capisco però vi capisco però vi ringrazio e vi apprezzo per comunque avere la così la costanza di seguirmi perché comunque io sono tanti maschetti che mi seguono e li ringrazio di vero cuore io cerco sempre di dire la persona insomma di cercare un po' di non identifica però ovviamente sapete per comodità mi rivolgo al femminile e però vi assicuro che non esiste la sesso nei tarocchi sono solo energie allora ragazzuole e ragazzuoli dopo vi farò anche la le lune come consiglio finale andiamo a vedere tipologia di carte i tarocchi di marsiglia la giustizia carta che ci piace tanto perché una carta molto positiva i romantic tarot viene la carta del 2 di denari i tarocchi classici moderni il 10 di coppe poi il rider white tarot il cavaliere di spade i tarocchi delle stagioni viene l'asso di bastoni i tarot mucia la morte i tarocchi piacentini il sette il sette di denari il sette di denari gli oracoli di ellen la carta della fortuna che è bella questa carta ragazze bella 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 ci piace i miei ultimi nati casa zaira ha delle emozioni forti nei tuoi confronti o che bella questa stesa ragazze è molto bella quindi qua c'è una persona che ha delle emozioni forti nei vostri confronti anche se da come viene descritta qua sembrerebbe un avventuriero uno che non si innamora mai quindi avete colpito una persona che in realtà un'energia un po da fanfarone un po d'avventuriero uno che non si vuole mai innamorare uno che può creare ostilità collera opposizione una persona abbastanza impulsiva una persona che è molto abile nel difendersi nell'attaccare è una persona di cui non ci si può tanto fidare però evidentemente per voi qua è scoccata una scintilla perché abbiamo sia il riconoscimento la maturità il 10 di coppe ci parla di un amore come dire compiuto cioè la maturità dell'amore no perché dopo il 10 vengono poi le figure di corte quindi è come un percorso l'asso il 2 3 4 5 fino arrivare al 10 il 10 è proprio il riconoscimento di quest'amore quindi questa persona attraverso anche l'unione sessuale che probabilmente ha avuto o vuole avere con voi perché abbiamo anche l'asso di bastoni ci sarà un nuovo inizio un cambiamento molto radicale molto importante e qua ci sarà una nuova situazione che si apre probabilmente si parla d'amore quindi un nuovo amore ora qui parliamo anche di un guadagno perché 7 di denari è una carta di guadagni di successo di progresso in genere rivolto nel lavoro quindi potrebbe anche essere che un periodo molto buono per voi che vi va bene tutto anche nel lavoro quindi qua questa carta ci potrebbe dire che voi siete in questo periodo particolarmente fortunati vi vanno le cose bene infatti qua la fortuna c'è eh non è che non c'è quindi questo 7 di denari è proprio una carta che va ciccio con le occasioni buone con il successo con il progresso di un buon lavoro e di guadagni insomma notevoli ora questa persona vedete è una persona con un aspetto un po come dire folle questa è una persona che gli piace i giochi innocenti d'amore gli piace comunque la leggerezza gli piace adattarsi a situazioni leggere cioè è una persona che ha sempre vissuto così diciamo la situazione e le situazioni con cui ha avuto a che fare in passato con voi sta provando delle emozioni forti che addirittura con questa carta della giustizia vedete qua non vengono rimandate le decisioni qua si potrebbe trovare un giudizio positivo riguardo a un legame stabile cioè questa persona non esclude che con voi potrebbe anche eh succedere qualcosa che non è mai successo nella sua vita cioè questo è sempre stato un cavaliere di spade dalle avventure facili eh dal i gesti un po così eh fanatici no di una persona comunque consapevole del proprio fascino però evidentemente ops oddio mio qua sempre che succede la stessa storia o meno male stavolta non è caduto scusatemi un attimo eccomi qua di nuovo a lui quindi ragazze ragazze andando a fare un piccolo riassunto cosa vi vuol dire questo messaggio oggi vi vuol dire che voi o già conoscete o conoscerete o magari lo frequentate non vi rendete conto una persona con queste caratteristiche una persona che ha sempre vissuto i sentimenti in maniera superficiale che adesso con voi prova delle emozioni forti talmente forti da voler comunque iniziare un qualcosa di diverso si vuole impegnare vuole pensare come a una maturità sentimentale siete in un'energia di fortuna sia in amore che anche nel lavoro con questa carta quindi che dirvi è in atto una rigenerazione un nuovo inizio qua abbiamo proprio un nuovo progresso un qualcosa che è completamente diverso da quello che vi lasciate alle spalle per cui che dirvi chapeau non mi resta altro che andare a pescare una runa per voi oddio qua dove stanno aspettate aspettate un attimo ah ecco qua va bene allora vado a mischiare allora qui intanto vedete questa runa che è la runa si chiama turisaz intanto qua c'è una d o presunta tale è quindi questa potrebbe essere guardate potrebbe essere una piramide sapete la piramide ha anche un significato la piramide ok qua oddio qua se la piramide è anche un significato molto importante e la connessione tra il basso e l'alto quindi comunque ok poi potrebbe sembrare una d e quindi questo questa d potrebbe avere un particolare significato potrebbe anche significare una p perché no ok in questo modo vediamo cosa potrebbe significare anche una v perché no ci potrebbe essere anche la i proprio paghiamo con la fantasia ma andiamo al significato di questa runa allora cosa significa questa runa rappresenta intanto una porta che ha a che fare con la vostra interiorità e esteriorità vedete quindi con la con la piramide la connessione tra l'alto e il basso l'interno e l'interno e l'esterno no quindi già ci da vedete come ci danno tutte le piccole diciamo attinenze poi questa runa rappresenta anche che la relazione che voi state vivendo o vivrete in futuro può appunto attraversare una profondità interiore così forte da farci riflettere e da farci anche prendere come dire una consapevolezza maggiore per cui è una luna molto importante perché ci connette con il nostro io interiore e con l'universo ci fa riflettere su questo e ci porta comunque delle relazioni all'esterno con il nostro mondo quindi in questo caso con questa persona perché il consiglio è è dedicato a questo amore a questa persona che ha delle emozioni forti nei vostri confronti e che è sempre stato un po' un fanfarono un po' un superficiale che con voi sente queste emozioni così forte da volere quasi volere cioè quasi qua vengono due carte di forte stabilità dieci di coppe e la giustizia quindi come se questa runa vi dice attraversate questa vostra interiorità con quest'altra persona entrate in connessione riflettete però è una relazione che quasi sembra baciata dal diciamo connessione che potete avere con questa persona quindi ragazze che dirvi anche la runa vi dà una buona notizia quindi oggi veramente chapeau quindi io mi auguro veramente di cuore che questa diciamo così questa stesa possa riguardare a più persone io vi aspetto tutti quanti nei commenti fatemi sapere vi mando un abbraccio pieno di luce e vi do appuntamento a domani mi raccomando non mancate ciao ciao